Dopo il voto di ieri alla Camera, il governo di Enrico Letta incassa la fiducia anche al Senato con 233 sì, 50 no e 18 astenuti. Si sono espressi a favore PD, PDL e Scelta Civica. Hanno votato contro i 5 Stelle e SL. La Lega invece si è astenuta. Mi sono reso conto che c'è un grande problema, un carico di aspettative assolutamente eccessivo su questo governo. Ha esordito così il presidente del Consiglio Enrico Letta nel suo discorso al Senato prima della fiducia. Piegando come dopo la lettura dei giornali, dopo aver ascoltato le opinioni dei parlamentari e soprattutto in seguito all'incontro di stamani a Palazzo Chigi con il presidente israeliano Shimon Peres, la giornata si sia caricata di molte preoccupazioni. Quella che abbiamo di fronte è e rimane una situazione di grandissima difficoltà, ha proseguito Letta. Se non c'è la consapevolezza dell'oggettiva fragilità di quanto fatto e di quanto stiamo facendo e si pensa che tutti i problemi si siano risolti facendo un governo, io credo che abbiamo sbagliato. Nel suo discorso al Senato Letta ha poi sottolineato nuovamente l'impegno del governo sul lavoro e welfare. Per la ripresa economica sarà necessario incentivare una ripresa della fiducia. Si è creato un clima per cui anche chi non ha perso il lavoro ha abbastato investimenti e consumi, ma ridare fiducia non sarà una legge o un comma, bensì la notta responsabilità comune, ha sottolineato il presidente.